Sono tantissimi i telespettatori che aspettano che Dio ci aiuti 7 A dare delle grandi anticipazioni ci ha pensato Francesca Chillemi Tra le serie più amate della Rai, troviamo certamente, che Dio ci aiuti, pronto ad esordire con la settima stagione In queste ore Francesca Chillemi è riuscita a spoilerare tutto. Le parole dell'attrice italiana Le parole dell'attrice italiana, via Ansa Foto Nella prima puntate annuale di A ruota libera tra gli ospiti abbiamo trovato anche Francesca Chillemi L'attrice italiana è nota per il ruolo di Azzurra Leonardi in Che Dio ci aiuti 7 Le nuove puntate della fiction con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Pierpaolo Spollon, infatti, andranno in onda a partire da giovedì 12 gennaio In prima serata su Rai 1 Prima ancora che inizi la nuova stagione l'attrice ha ricordato tutti i cambiamenti che il suo personaggio ha avuto nel corso degli anni In molti ricorderanno che la siciliana è tra le protagoniste sin dalla prima stagione della serie Da ragazza viziata e superficiale in lotta con il padre notaio diventa più responsabile innamorandosi di Guido, Lino Guanciale, facendo da madre per il piccolo Davide Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!